Il diavolo si presenta con grande potere, ti porta dei regali, ma tu non sai cosa c'è dentro. Rinovo l'invito a tutti a pregare il rosario ogni giorno del mese di ottobre, concludendolo con l'antifono sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo per respingere gli attacchi del diavolo che vuole dividere la Chiesa. Grazie per la visione!